Laudentur Iesus et Maria, misci e amiche carissimi, ben tornati a questo ciclo di catechesi bibliche sui libri rapidenziali che giunge con questa puntata all'ultima parte, non probabilmente l'ultima puntata perché forse ce ne vorranno due o forse tre per analizzare bene, gustare anche per quanto possibile in una presentazione non completa come abbiamo più volte fatto notare è impossibile quando si fa un ciclo di catechesi su una fascia di libri biblici, in questo caso i libri sapienziali, fare una presentazione esaustiva, sarebbe difficile anche se fosse fatto su un solo libro biblico, figuriamoci su un insieme di testi. Volevo anche ricordare che con questo ciclo di catechesi di libri sapienziali, considerando anche quello che già è online, credo che praticamente ci dovrebbe essere tutta la Bibbia, tutte le aree della Bibbia, diciamo così, introdotte e in qualche modo presentate, niente di più in maniera molto semplice, ripeto, non esaustiva e divulgativa, proprio come introduzione di invito alla lettura, diciamo così, dal sottoscritto che sta parlando, quindi chi vuole, ci sono le catechesi bibliche sull'Antico Testamento, quindi che sono fondamentalmente quelle sul Pentateuco e i libri storici, le catechesi sui libri dei profeti si trovano tutti quanti nelle previste, sui libri sapienziali, con questo si esaurisce l'Antico Testamento, dopo di che ci sono tutti e quattro i Vangeli, Vangeli di Matteo, di Luca, di Marco e di Giovanni e ci sono anche le catechesi sulle lettere di San Paolo e sul Corpus Ioanneum. Credo che i collaboratori abbiamo anche rimesso in rete, recentemente, credo, sia una serie di catechesi tematiche sui discorsi evangelici di Gesù, che gli fece durante un anno in Borgo San Michele, che un'altra ancora sulle parabole di Gesù. Quindi questo, insomma, per dire che come ministro sacro, quindi come sacerdote, ovviamente il mio primo dovere, quello che cerco anche di curare nell'omiletica giornaliera, è il commento della Sacra Pagina, che è il testo normativo, come dire, e ti riferimento, ovviamente primo assoluto e per antonomasia, a cui tutti quanti, insomma, dobbiamo stare, insomma, quindi nessuno discute che la Sacra Scrittura sia la fonte primaria ed eccellente, diciamo così, di ispirazione e di spiritualità. Bene, cominciamo a introdurre allora il libro del Siracide, per il quale ho scelto come sottotitolo il libro della Chiesa per la formazione morale. È un testo stupendo, molto bello, vedremo subito, bello e ampiamente articolato, perché è molto lungo. in latino, il libro del Siracide, esplicemente nella vulgata, si trova con l'edizione ecclesiastico, che termina appunto copiato da San Cipriano, non copiato, scusate, coniato da San Cipriano nel terzo secolo, perché ecclesiastico? Per designarne l'uso liturgico e catechetico appunto a scopo parenetico, scopo parenetico, in greco, dal greco, significa a scopo esortativo in chiave morale. L'autore è Gesù Ben Sira, come si legge proprio in Siracide 50, 27, mentre il prologo è del traduttore greco. L'originale ebraico è andato per tutto, il nipote di Ben Ben Sira ci dà preziosa indicazione sulla data di composizione, cioè l'anno 38 del re Evergete, cioè al 132 a.C., mentre l'originale ebraico lo collocano gli eseggeti tra il 196 e il 175 a.C. Si capisce? Quindi è un libro molto molto recente, uno dei più recenti dell'Antico Testamento, ha 51 capitoli, quindi è un libro molto ampio, suddivisi in tre parti. Una lunga raccolta di sentenze di vario genere, dal capitolo primo al capitolo 42, versetto 15. Poi c'è una sezione dedicata alla gloria di Dio nella creazione, poco più di un capitolo, dal 42,16 al 43,33 e infine una ampia rassegna su come si è manifestata la gloria di Dio nella storia della salvezza, passando tuttanto una serie di personaggi ed eventi biblici, ovviamente vedono testamentari, perché quelli del nuovo testamento ancora non c'erano quando è stato scritto il libro del Siracide. E infine l'epilogo, due capitoli, capitoli 50 verso la parte conclusiva e 51. Questo è un po' molto veloce e ampia la presentazione del testo. Ora ci sono una serie di brani scelti che dobbiamo certamente andarci a gustare. Il libro del Siracide è un libro leggibilissimo, come tanti altri libri sapienziali, non presenta difficoltà interpretative, può essere letto e meditato da chiunque, anche da una persona che non si è acculturato o cose di questo genere, perché è in pieno stile dei libri sapienziali fondamentalmente abbastanza semplice. Quindi possiamo andare direttamente a vedere il memorabile inizio dove si parla della sapienza, sia al capitolo 1 che in otto bellissimi versetti del capitolo 4. parto. Adesso per chi segue la diretta cambio il passo al visuale della sagra scrittura. Un attimo solo. Allora, cominciamo la natura del capitolo 1. Vedete che è la parte dedicata al testo greco, al testo ebraico, nella sinossi, vetro testamentare, delle varie traduzioni, ma anche appunto perché abbiamo perduto il testo originale, mentre c'è la versione dei 70, la doppia versione della CEI 74 e 2008 e quella latina della Vulgata. Allora, andiamo a vedere questo testo. Ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con Lui. La sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni del mondo, chi potrà contarli? L'altezza del cielo, l'estensione della terra, la profondità dell'abisso, chi potrà esplorarle? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre. A chi fu rivelata la radice della sapienza? Chi conosce i suoi disegni? Uno solo è sapiente, molto terribile, seduto sopra il trono. Il Signore ha creato la sapienza, la vista e la misurata, l'ha diffusa su tutte le sue opere, su ogni mortale, secondo la sua generosità. La elargì a quanti lo amano. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore, dà contentezza, gioia e lunga vita. Per chi teme il Signore andrà bene alla fine, sarà benedetto nel giorno della sua morte. Principio della sapienza è temere il Signore. Essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Tra gli uomini essa ha posto il nido, fondamento perenne, resterà fedelmente con i loro discendenti. Pienezza della sapienza è temere il Signore, essa inebile di frutti i propri devoti. Tutta la loro casa riempirà di cose desiderabili i magazzini dei suoi frutti. Corona della sapienza è il timore del Signore, fa fiorire la pace e la salute. Dio ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere la scienza e il lume dell'intelligenza ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice della sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono lunga vita. Qui termina la sezione dedicata alla sapienza, poi andremo a vedere perché comincia un altro argomento. Andiamo a ripercorrere però questa meravigliosa prima parte. Vedete che il testo è molto molto chiaro, penso che non c'è un commento di tipo esplicativo, c'è un commento di tipo che ripercorre e che sottolinea alcune espressioni magari con qualche piccola puntualizzazione perché come vedete il testo è chiaro, quindi penso è per questo che è accessibile, facilmente accessibile a chi desidera accostarvi, sino a ogni sapienza viene dal Signore bellissimo, vediamo questa espressione, ed è sempre con lui. Ecco, e appunto alcune articolazioni della sapienza perché la sapienza, penso come abbiamo imparato, è la scienza sapida, quindi è quella forma di conoscenza che però ha la sua radice in Dio, quindi che conosce le cose nel loro rapporto, dice Santo Tommaso, con il principio primo che è altissimo, quindi che già sempre conosce, ma conosce alla luce della fede, quindi conosce sempre in relazione al principio primo. Allora, prima cosa, vedete subito, dopo aver detto che la sapienza è viene dal Signore ed è sempre con lui, cominciamo un attimo a mettere alcuni puntini. La sabbia del mare, la pioggia, i giorni del mondo, l'altezza del cielo, l'estensione della terra, la profondità dell'abisso, chi potrà esplorarle. Tanto una serie di meravigliiche, anche se adesso noi siamo diventati scienziatissimi, io non lo so se esiste online qualche informazione circa il numero dei granelli di sabbia del mare, la ritengo una cosa improbabile, però oggi siamo diventati così intelligentoni, insomma, o chi è capace di contare le gocce della pioggia, non solo quelle che sono occorse, diciamo così, oggi nei posti dove ha piovuto, ma chi è capace di contare tutte quante le gocce di pioggia cadute sul pianeta terra. O i giorni del mondo, qui ci sono gli scienziatoni di oggi che vanno a fare le prove di coraggio circa ai miliardi, milioni di anni indietro, in cui saremo poi, non sono molto d'accordo tra di loro, chi dice di più, chi dice di meno, insomma, no? Oggi l'estensione della Terra più o meno sappiamo misurarla, no? E forse anche le profondità degli abissi degli oceani. Ecco, l'altezza del cielo dobbiamo ancora studiare un po', ecco perché le galassie, insomma, e la loro distanza dalla Terra, così come anche il loro numero sono ancora, rappresentano degli orizzonti ancora ampiamente da esplorare, no? Tutto questo serve semplicemente a farci rendere conto della trascendenza e della immensità e della grandezza di colui che ha appunto creato, ecco, perché la prima manifestazione della, la prima grande manifestazione della Sapienza si ha nella creazione, no? Ecco. Chi conosce i disegni della Sapienza? Anzitutto. Ecco. Il sapiente per l'autonomasia è uno solo, molto terribile, si legge. In greco è foberosso, no? Quindi da foberos deriva fobia in italiano, no? Quindi, cioè che incute timore, molto terribile traduce la traduzione del 74, incute timore, quella del 2008, va bene, anche questo, va bene, no? Seduto sopra il trono, qui si fa chiaramente riferimento all'altissimo, no? Ecco. Bellissima questa espressione. Il Signore ha creato la Sapienza, l'ha vista, l'ha misurata e l'ha diffusa su tutte le sue opere. Quindi qual è la prima forma di acquisizione della Sapienza? Un buono spirito contemplativo. penso di averlo detto tantissime volte, no? Adesso noi, il problema è che noi adesso siamo diventati dei super scienziati, ma non siamo sapienti. Questo è il paradosso del folle uomo contemporaneo, ha una marea di informazioni tagliatissime, però è incapace di provare quello stupore tipico della Sapienza, no? Invece noi dobbiamo soprattutto attraverso la sana e santa contemplazione del creato coltivare questa cosa. Cioè, tante meditazioni fatte sulla Divina Volontà, tante le ho fatte, eh. Ho avuto tante volte modo di dire, ma pensiamo solamente alla meraviglia del corpo umano. Noi non ci pensiamo a tante cose, eh. Cioè, a vivisezionare ogni minima cosa, no? Si rimane veramente senza parole, oggi, con tutte le informazioni che sappiamo. Per esempio, l'unicità delle impronte digitali, tanto per dire qualcosa, del nostro DNA. Cioè, i tratti caratteristici, no? Della persona, ma... Una marea, insomma, no? E' bellissimo fare questa operazione. E più la facciamo e meglio è. Diffusa su tutte le sue opere. Su ogni mortale, secondo la sua generosità, oh, e poi però la proprio elargisce, quindi a profusione, chi è che diventa molto sapiente? Qui c'è proprio la teologia, con tutto il rispetto ovviamente per i dominicani, no? Si diventa più sapienti quanto più si ama il Signore. Perché quando trova qualcuno che lo ama, elargisce la sapienza a profusione. Proprio la rà. Ecco. Poi c'è la sezione, la seconda parte, che parla del timore del Signore e di come questo è assolutamente connesso con la sapienza. Il timore del Signore. Questo è un tema ricorrente nei libri sapienziali, no? Attenzione che in greco il termine è phobos curiu. Phobos letteralmente significa paura, anche anche paura, insomma, paura, paura. Però phobos significa anche riverenza. Quindi, San Tommaso d'Aquino, come penso più di qualcuno sa, distingue due specie di timore. Il timore servile e il timore filiale di Dio. Il secondo ovviamente è più perfetto del primo, però è necessario che ci sia anche il primo, cioè, nel senso, Dio va temuto perché? È perché Dio è sommamente santo, è sommamente giusto. Cosa dice il Signore nel Vangelo? Che fate? Temete, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono fare nulla. Temete colui che insieme al corpo ha il potere di far perire l'anima. Sì, ve lo dico, temete costui. Cioè, quindi, questo timore è un timore che, come dire, un po' di paura ce l'ha in sé. Cioè, non possiamo questo accantonarlo del tutto. Nemmeno quando si acquisisce, noi battezzati dovremmo averlo tutti, quella forma più bella e più perfetta del timore filiale. Cioè, non è la paura, ma ho il timore, meglio usare il termine timore in questo caso, quindi la differenza di dispiacere, di dispiacerlo, di offenderlo, di non fare perfettamente quello che vuole, eccetera, eccetera. Ho intutamente queste manifestazioni belle, che non comportano una paura, cioè quella cosa, insomma, che ci fa stare un po' così. Però, accrescono la riverenza. Non può non essere presente questa disposizione in noi, perché altrimenti è proprio la fine. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore, dà contentezza, gioia e lunga vita. Per chi teme il Signore andrà bene e alla fine sarà benedetto nel giorno della sua morte. I timorati di Dio. Ci dice, no, quello è uno che non c'è il timore di Dio. Vedete? Principio della sapienza, anzitutto. Adesso poi cominciano le correlazioni tra il timore del Signore e la sapienza. Il principio della sapienza è temere il Signore. Quindi potrà ricevere la sapienza solo chi ha il suo principio. Quindi, se tu non hai il timore di Dio nella duplice forma, nella duplice forma, quindi quella di cui parla Gesù nel Vangelo, è quello che è chiamato il timore servile, quindi io temo Dio perché Dio castiga il peccato in questo mondo, eppure nell'altro mondo. In questo mondo, appunto, con i castighi e con i fragelli, nell'altro mondo con la dannazione, se uno se la merita. Però, Dio è anche un Padre amorevole che ci indica e ci guida per la via del bene e che sarebbe sommamente sgradevole, brutto, dispiacerlo, offenderlo anche nel poco. Questo è il timore figale. Poi, non soltanto principio della sapienza, ma anche pienezza della sapienza è temere il Signore. Cioè, quando si ha questo timore del Signore, si ha già la sapienza in pienezza. Non è una contraddizione, ma è così. Perché quanto più si è sapienti, quanto più questa cosa si perfeziona. Poi, Stefanos si dice in greco, corona della sapienza è il timore del Signore. E attenzione, guardiamo anche questa parola di Dio, questa qui. tutta la loro casa riempirà di cose desiderabili, i magazzini dei suoi frutti. Poi fa fiorire la pace e la salute. Questo è quello che c'è scritto. ancora radice della sapienza è temere il Signore e i suoi rami sono lunga vita. Bellissimo, no? Facciamo un piccolo jump e andiamo a completare questa presentazione con il capitolo quarto, i versetti appunto 11-19. Ecco. La sapienza esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano. Ecco qua. Chi la ama, ama la vita. Desideriamo noi la sapienza. Guardate che è una cosa meravigliosa, bellissima. Vi ricordate quando Salomone, l'abbiamo detto in libro della sapienza, pregai, mi fura agitare la sapienza, senturai bene a me, l'ho amata e desiderata fin dalla mia giovinezza, ho deciso di prendermela per sposa. La sapienza è la cosa più bella che esiste. Quindi quella conoscenza saporosa della vita, guardate si campia benissimo. La sapienza è lo sposalizio, diciamo così, no? Tra l'intelligenza unita alla fede. e quindi tutta quanta l'elaborazione di questo. Quanti la cercano solleciti, saranno di colmo di gioia. La compagnia della sapienza, ecco, l'abbiamo visto anche nel libro della sapienza, specialmente nelle sezioni dedicate alle preghiere di Salomone, ce l'hai e avrai una vita felice, sarai pieno di gioia. Non solo, chi la possiede erediterà la gloria e qualunque cosa intraprende il Signor lo benedice. C'è un Salmo anche che dice queste cose. Tutto quello che intraprende gli riesce bene. Sapete quale Salmo è? è il numero uno. C'è la distinzione tra l'uomo che teme Dio e l'uomo empio. Vedete? Peato l'uomo che non siede, che non è il consiglio degli empi, non induce una legge dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti. Non così gli empi, non così, se tutto quello che intraprende riesce bene riusciranno tutte le sue opere. Tutte le sue opere. un sapiente è benedetto nelle cose che fa. Il Signore ama coloro che la amano. Capite? La sapienza, un tempo, quando ancora anche nella Chiesa c'era un po' di maggiore buonsenso, sapete tutti quanti che per diventare sacerdote prima di studiare la teologia si studiava la filosofia. Filosofia in greco significa amico della sapienza. Ora, un altro brutto segno dei nostri tempi che stiamo vivendo, adesso non voglio fare questi discorsi, è la decadenza della filosofia, no? Fenomeno che ha cominciato da lontano, cioè da quando la filosofia dell'essere, che praticamente ha caratterizzato la storia del pensiero salvo le degenerazioni sofistiche o epicuree della decadenza greca, però la speculazione dei grandi filosofi compresi i presocratici, no? Cioè, pensate a Parmenide, l'essere è e non può non essere, l'essere non è e non può essere, questo dice Parmenide. invece poi Eraclito che si poneva a Parmenide invece che tutto quanto scorre, che tutto quanto è in divenire, no? Ma le grandi speculazioni di Socrate, di Platone, di Aristotele, di un Sant'Agostino che è stato un grandissimo filosofo, ma anche di filosofi ebrei e arabi, no? la Vicenna, la Verroè e poi la grande epopea della scolastica, no? Con tutti quanti i geni, le fioriture che hanno dato. Studiare quelle cose è una cosa che ti arricchisce profondamente. Il Signore ama quello che la amano, anche i pagati, Sant'Omaso d'Aquino, Sant'Omaso d'Aquino il filosofo, come lo chiamo con la F maiuscola a quei tempi, lo conosceva a memoria praticamente ed è stato capace di come dire trovare in questo grande genio, Aristotele è stato uno dei più grandi geni della storia, come dire, non soltanto una fonte di citazione anche per alcune questioni, specialmente in campo etico, morale, ma anche gnosiologiche importantissime ma addirittura lui ha proprio preso alcune categorie di Aristotele applicate alla teologia e guardate che la transustanziazione di queste cose il concetto di transustanziazione che è diventato dogma di fede con il concilio di Trento ma tra che cosa è stato il concetto di sostanza chi è che l'ha approfondita cioè la composizione tra sostanze accidenti di ogni ente in base al principio dell'ilemorfismo chi l'ha approfondito? Aristotele e il Santo Madre è stato un genio a prendere questa roba qui e dice ma attraverso questa categoria forse non dico che si buca il mistero ma si può capire qualcosa di quello che succede quando si è andato consacro vogliamo provare? e mi sembra che i risultati siano discreti quindi per questo cazzino le ama coloro che la che la amano la vera ricerca della della sapienza non le 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 pazzie le lucubrazioni post cartesiane perché poi l'ho detto anche uno di questi giorni escevo ad esempio questa cosa qui cioè quello sparti traffico da cartesio in poi si passa dalla filosofia dell'essere a quella che si chiama la filosofia della coscienza tutti i filosofi che vengono dopo cartesio sono tutti dipendenti da lui tutti quanti sia gli illuministi sia gli idealisti tutti sia gli esistenzialisti che si oppongono agli ideali ma sono tutti quanti rami avete visto prima dice radice della sapienza ti muove dal signore i suoi rami ecco allora il cartesianesimo quindi che è il fondamento del razionalismo e quindi l'inversione proprio il capovolgimento della filosofia siamo ancora ad oggi zero il grande papa leone xiii ha capito benissimo alcune cose e aveva per esempio promosso a livello filosofico teologico la cosiddetta neoscolastica perché capiva che infiltrandosi i tossici i veleni dello pseudo pensiero moderno contemporaneo questo avrebbe rominato il fondamento della chiesa oggi nella chiesa non c'è più niente non c'è abbandonato santo ammaso d'aquino i chiacchieroni moderni e neomodernisti guardate che in giro c'è proprio una disgustosa ignoranza discorsi proprio di una banalità a volte quasi da bar che si sentono dire da da persone che dovrebbero essere di illuminare c'è anche una grandissima decadenza culturale e che è un male gravissimo per quanto mi riguarda nel clero adesso dirò delle cose che sono un pochino impopolari sapete bene che una volta un sacerdote tu non potevi neanche avvicinarti al seminario cioè non hai fatto il liceo classico anche perché dal seminario minore l'avresti fatto anche perché non esiste una cosa del genere così come una volta questo mi raccontava sempre mia madre qual era l'unica scuola che ti dava l'accesso a tutte le facoltà universitarie il liceo classico se lo scientifico ha tutte meno che a lettera giurisprudenza distrutto tutto per quanto mi riguarda sarò un restauratore sarò un retrogrado tutto sbagliato tutto un mondo da rifare questo se non ricordo mai lo diceva Ettore Petrolini tutto sbagliato tutto un mondo da rifare tutto la sana e santa filosofia è una delle cose che dovrà perché la gente oggi non pensa non ragiona sragiona cioè San Tommaso d'Aquino anche se su alcuni aspetti per esempio si può convenire che possa essere superato no? su alcuni punti ben specifici del suo argomentare ma quello ti insegna a ragionare però il suo modo di incedere e di procedere la sana filosofia cioè sapete perché con il liceo classico faceva qualunque tipo di storia perché tra il latino il greco e la filosofia dovevi per forza aver imparato a ragionare per forza per forza per forza per forza il latino è una delle lingue più ferree che esiste cioè se tu sei bravo in latino sei l'equivalente di chi è bravissimo in matematica perché la logica ferre la lingua latina c'è una logica ferrea questo che io ogni tanto quando mi trovo con persone che magari preghiamo insieme in latino dico se non lo sai sta attento devi fare proprio uno sforzo immenso perché se tu nel latino cambi una finale metti una M al posto di un attivo una S al posto di una M che stravolgi completamente il significato di una frase vai a dire un non senso logico chi l'ascolta giudica con equità chi le presta attenzione vivrà tranquillo chi le presta attenzione vivrà tranquillo la tranquillitas è quella è quella situazione quello stato d'animo che è il contrario la tranquillità è il contrario di che cosa? dell'agitazione dell'angoscia noi siamo agitati siamo angosciati quando ci manca la terra sotto i piedi non sappiamo che santo votarci questo non è roba che abita in un cuore sapiente attenzione chi confida in lei la otterrà in eredità e poi è bellissimo i versetti 17 e 18 sono da incorniciarsi da prima lo condurrà per luoghi tortuosi gli incuterà timore e paura lo tormenterà con la sua disciplina finché possa fidarsi di lui e lo abbia provato con i suoi decreti non si acquisisce dall'oggi al domani la sapienza da prima ti conduce per luoghi tortuosi ti incuterà timore e paura in greco è phobon kai teilian in primis terrore e timore e paura lo tormenterà con la sua disciplina tu non acquisisci la sapienza se non impari a vivere in maniera ordinata ordinata disciplinata la sapienza non è per gli indisciplinati questa è un'altra cosa la nostra vita deve essere ordinata e disciplinata voi pensate tanto per farvi un esempio un sacerdote come un sacerdote diocesano vedete la casa mia è sempre vuota io campo da solo non è che ci sta qui come dire il grande fratello che è il vescovo che mi controlla tutto quello che faccio e mi dice è ora di fare i vespri è ora di andare in chiesa a celebra no perché la nostra vita però sia fruttuosa noi dobbiamo imporci una disciplina evidentemente non non da lager o da caserma o da monastero certosino perché è impossibile però la nostra vita non può essere vissuta a casaccio la giornata non può essere vissuta a casaccio te la scordi la sapienza anche perché proprio della sapienza indirizzarsi verso questa via dio ci mette alla prova prima di concederci i suoi doni dio verifica se può fidarsi di noi pensiamo a Maria Santissima Maria Santissima dio si poteva fidare di Maria Santissima e quante volte l'ha messa alla prova Maria Santissima quante quindi passate le prove passate l'essere saggiato quindi vediamo se questa persona la sapienza vuole veramente come si è disposta a a soffrire un po' a passare anche per luoghi tortuosi a mettersi sotto disciplina e poi lo ricondurrà sulla retta via e gli manifesterà i propri segreti ma attenzione i propri segreti però se egli batte una falsa strada lo lascerà andare e l'abbandonerà in balia del suo destino ovviamente non è che uno batte una falsa strada perché si è smarrito d'accordo quindi perché è incerto no dobbiamo interpretare questo versetto se egli invece sceglie di percorrere per una strada balorda ostinatamente prego accomodati e sarai abbandonato al tuo destino un dannato è uno che è stato abbandonato al suo destino volontariamente scelto e perseguito in maniera ostinata e irreversibile bene do un'occhiata possiamo andare a vedere adesso il memorabile capitolo 2 abbiamo fatto un jump al 4 perché così abbiamo raggruppato l'argomento tematico della salienza però il capitolo 2 non penso che faremo altro perché questo è veramente spettacolare è appunto veramente spettacolare ce l'andiamo a gustare figlio se ti presenti per servire il signore preparati alla tentazione abbia un cuore retto e sii costante non ti smarrire nel tempo della seduzione sta unito a lui senza separartene perché tu si è esaltato nei tuoi ultimi giorni accetta quanto ti capita sii paziente nelle vicende dolorose perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore affidati a lui ed egli ti aiuterà segui la via diritta e spera in lui quanti temete il signore aspettate la sua misericordia non deviate per non cadere voi che temete il signore confidate in lui il vostro salario non verrà meno voi che temete il signore sperate i suoi benefici la felicità eterna e la misericordia considerate le generazioni passate riflettete chi ha confidato nel signore ed è rimasto deluso o chi ha perseverato nel suo timore fu abbandonato o chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato perché il signore è clemente e misericordioso rimette i peccati e salva il momento della tribolazione ma guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti e al peccatore che cammina su due strade guai al cuore indolente perché non ha fede e per questo non sarà protetto guai a voi che avete perduto la pazienza che farete quando il signore verrà a visitarvi coloro che temono il signore non disobbediscono alle sue parole e coloro che lo amano seguono le sue vie coloro che temono il signore cercano di piacergli e coloro che lo amano si sassano della legge coloro che temono il signore tengono pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a lui gettiamoci nelle braccia del signore e non nelle braccia degli uomini poiché quale è la sua grandezza tale è anche la sua misericordia amici miei cari leggiamo questo e poi cantiamo il look di Mittis di Simeone dice ora lascio il signore che il tuo servo vada in pace non so chi ha ascoltato in diretto indifferita io questo brano lo conosco abbastanza bene non so chi non l'ho mai sentito le risonanze che ha avuto perché questo è il libro del Simeone è stupendo è bellissimo vedremo qualcosa insomma penso che quel po' che abbiamo già visto questa sera sia sufficiente per farcene innamorare allora prima cosa figlio se ti presenti per servire il Signore preparati alla tentazione alla tentazione capite? chi si presenta per servire il Signore sarà tentato tentato in due in due come dire modalità sarà la tentazione e il diavolo che certamente non ti lascia in pace nel servire il Signore e poi ce n'è un'altra c'è la prova l'abbiamo già visto non ti smarire nel tempo della seduzione tradotto forse un po' più opportunamente dalla CEI 2008 con prova c'è la tentazione che viene dal diavolo e c'è la prova che viene da Dio la tentazione che cerca di distoglierti dal servizio di Dio la prova che è finalizzata a confermarti in quello cioè a darti la possibilità di dimostrare tra virgolette a Dio quello che vali perché si possa fidare di te l'abbiamo appena visto quindi abbi un cuore retto attenzione la rettitudine del cuore che cos'è la rettitudine del cuore? la rettitudine del cuore è l'intenzione ferma e costante di cercare il Signore il suo volere la sua giustizia il suo volto e poi soprattutto sii costante se ti presenti perseguire il Signore vedete come subito viene rappresentata una prima virtù fondamentalissima la costanza e non ti smarrire appunto nel tempo della seduzione ma seduzione si può tradurre anche con prova no? non ti smarrire poi altra cosa sta unito a Lui senza separarti coltivare sempre l'unione con Dio come si realizza l'unione con Dio preghiera sacramenti comandamenti queste tre cose costituiscono l'essenza dell'unione che noi possiamo raggiungere in questo mondo ovviamente con Dio poi altra cosa molto importante accetta quanto ti capita sii paziente nelle vicende dolorose la nostra vita la governa il Signore accetta quanto ti capita vedi in esso la mano di Dio il grande Sant'Alfonso Maria dei Liguori quindi questa visione soprannaturale delle cose non dobbiamo sempre averla è proprio della sapienza una delle cose è proprio della sapienza cominciare piano piano a percepire comprendere sempre di più che nelle vicende nelle circostanze anche quotidiane passa la presenza e la grazia di Dio comprese quelle dolorose Sant'Alfonso diceva che se viene uno e ti offende e questo c'è l'esempio biblico in Davide quando Simei della tribù di Saul mentre lui stava scappando lo riempiva di improperi se uno ti insulta sta facendo un'ingiustizia e il Signore gliela farà pagare quell'ingiustizia come tutte le ingiustizie si pagano davanti a Dio però tu non devi ribellarti e non devi prendertela con lui ma devi vedere dietro quell'umiliazione la mano di Dio che in quel momento vuole che tu soffra quell'umiliazione questa è grande santità andate a vedere l'abbiamo visto l'anno scorso negli incontri di Dio sull'Antico Testamento come reagisce Davide a un certo punto gli arriva uno dice ma fammi staccare la testa sto cane morto che ho in comune con voi figli di Zeruià se lui mi maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide testuali parole lascialo fare perché può darsi che vedendo il Signore la mia ammigliazione avrà piede la misericordia di me altra cosa con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore è legge come si fa a trarre fuori l'oro bello quindi l'oro raffinato dall'oro grezzo si alzano le temperature figlioli miei cari si va al fuoco la prova del fuoco oggi c'è un bellissimo film che si chiama Fireproof dato che adesso va di moda parlare di film di di un regista statunitense purtroppo non cattolico ma dai contenuti molto molto cristiani si vedono le venature di protestantesimo però comunque molto edificante si chiama prova di fuoco cioè come si può salvare un matrimonio che è giunto alla deriva consigliatissimo Alex Kendrick si chiama il regista e e poi ancora affidati a lui ed egli ti aiuterà affidarsi al Signore quando stiamo in difficoltà più avanti dice gettatevi tra le braccia del Signore non tra cuore degli uomini per carità maledetto l'uomo che confida nell'uomo si legge in Geremia benedetto l'uomo che confida nel Signore segui la via diritta non si esce mai dalla via diritta se tu stai nei comandamenti e non ti discosti non pecchi non temere mai di nulla il versetto 7 dato che oggi siamo in tempi di è fondamentale chi è che può aspettarsi la misericordia del Signore quanti lo temono non quanti lo irridono quanti lo temono di timore abbiamo già detto servile e filiale se vogliamo usare i termini di San Tommaso da Quino quelli sì aspettate la sua misericordia voi che temete il Signore sperate i suoi benefici chi teme il Signore certo può sperarli sperate anche la felicità eterna certo la speriamo se uno teme il Signore la può sperare e la misericordia ancora quindi che significa che la misericordia scende sui dimorati di Dio non scende su tutti incondizionatamente né tanto meno su quelli che ne abusano che le ridono o altra cosa considerate le generazioni passate e riflettete chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso leggiamo figlioni cari facciamo un po' facciamo qualche bel regalo qualche bella vita dei santi che è molto istruttiva ed è molto bella molto importante usiamo bene il tempo che ci è dato chi ha perseverato nel suo timore fu abbandonato Dio non abbandona nessuno specialmente quelli che perseverano nel suo timore abbandona il suo destino tra virgolette come abbiamo visto chi si ostina nella sua volontà di fare quello che vuole guai ai cuori pavidi alle mani indolenti e al peccatore che cammina su due strade quelli che vogliono stare un po' con Dio un po' con il mondo il cuore che non ha fede non sarà protetto il cuore che non ha fede non sarà protetto parola di Dio quella che avete perduto la pazienza qui è la pazienza la pazienza non la pazienza intesa semplicemente come la capacità di soffrire le pene e le prove della vita infatti la CEI 2008 preferisce la perseveranza giusto giusto che insieme alla costanza è la gemella perché il Signore verrà a visitarci quando lui stabilisce non ha comando non ha banchetta poi i timorati del Signore gli obbediscono seguono le sue vie cercano di piacergli si saziano della legge guardate che bello che cosa bisogna fare delle esaltazioni che cosa vuoi commentare sto riprendendo temono il Signore pronti i loro cuori ed umiliano l'anima davanti a Lui come era la nostra preghiera che cosa gli dicevano quando stiamo ricordiamo il faticere pubblicano davanti a Lui non davanti agli uomini umiliarci farci piccoli e poi c'è una ripresa del tema gettiamoci nelle braccia del Signore non in quelle degli uomini bellissima l'espressione per il quale la sua grandezza tale anche la sua misericordia aveva annunciato che questa è l'ultima parte del ciclo di catechesi ma sicuramente non era l'ultima puntata perché abbiamo fatto quasi nulla ma non fa niente quindi noi siamo ben felici di gustarci con calma questo libro e nella prossima volta cominceremo una sezione molto molto interessante che è quella che riguarda i doveri verso i genitori e poi una cosa molto molto bella sarà l'ultima parte che è l'educazione dei figli di cui ho parlato nei giorni scorsi e che sentiremo come si educa un figlio secondo la sapienza del Siracide non è proprio la stessa cosa di quello che si vede oggi in giro ecco però poi ne parleremo a suo tempo quando sarà il momento laudentur iessus et maria il dio vi benedica e la santa vergine tutti vi proteggo e la santa vergine la santa vergine